Vi rubo giusto due secondi per informare soprattutto ai nuovi arrivati di iscriversi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video di The Walking Dead Che dire, iniziamo subito Bella a tutti ragazzi che parla è Foxhound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un nuovo video, ovviamente un nuovo question and answer Oggi, questo question and answer di oggi sarà appunto dedicato a una domanda davvero interessante che mi avete fatto Ovvero sarà Carol a uccidere Negan? Lo scopriremo in questo video e scopriremo tantissime altre risposte alle vostre domande in questo nuovissimo episodio del Q&A Ovviamente se volete farmi qualsiasi domanda la potete fare tranquillamente qui giù nei commenti, sapete ormai come farla Ovviamente ragazzi fatene tantissime così posso sceglierle bene Per quello che saranno i prossimi episodi perché ovviamente ragazzi più domande mi fate più diciamo posso metterle nei video e posso ovviamente insomma impostarle meglio, cambiarle soprattutto Perché comunque ragazzi mi fate domande tantissime volte molto uguali tra loro quindi avendo già risposto Quindi se non trovate risposta alla vostra domanda è perché ovviamente sono domande già fatte quindi ovviamente ho già dato risposta in altri Q&A Ok l'ho detto bene Prima domanda ce la fa StoryTV che ci chiede question and answer in questa stagione stanno morendo troppe persone importanti del gruppo Secondo te Carol si vendicherà? Ucciderà Negan? Ciao Fox sei un grande Questa è una bella domanda perché ovviamente l'ho messa come il titolo di questo video Proprio perché ovviamente adesso abbiamo scoperto che Morgan cioè che altro abbiamo scoperto Morgan ha confessato a Carol che Glenn e Abram sono morti per Negan Ovviamente questa cosa a Carol non starà bene nel senso che comunque sappiamo che Carol insomma quando si tratta delle persone diciamo del suo gruppo Ovviamente è la prima a sacrificarsi oppure semplicemente a proteggerli Infatti come già abbiamo visto nella sesta stagione ha dovuto proteggere Alexandra dai lupi E' stata soltanto lei praticamente che ha ucciso tutti quanti poi ovviamente altre persone hanno L'hanno aiutata però comunque lei maggiormente ha fatto quella che è la strage di Wolfes Praticamente eliminando se stessa perché ha ucciso talmente tante persone che è stato in quell'episodio che è iniziata diciamo la crisi di Carol E proprio comunque questo fatto l'ha fatta allontanare nel senso lei ha voluto abbandonare il gruppo Non perché ovviamente voleva farlo perché non lo so diceva ad un altro gruppo semplicemente non voglio più stare con voi Semplicemente lei amava tantissimo quello che è il gruppo di Rick Ma ovviamente essendo che non poteva o meglio non voleva più uccidere Che cosa è successo? Che praticamente ha deciso di abbandonare quello che è il gruppo di Rick e andarsene per conto suo lontano da tutti Proprio per non soffrire e per non sentire la sofferenza delle persone Però in questo caso praticamente nell'episodio che abbiamo visto nell'episodio 13 Dove Morgan ha confessato a Carol che ovviamente insomma Grant e Abram sono morti Le cose per Carol sono veramente cambiate tantissimo Infatti adesso Carol è in procinto di allearsi appunto a quello che è la guerra contro Negan E magari io stavo pensando che potrebbe essere tranquillamente lei a uccidere Negan Magari facendo fuori anche se stessa Nel senso lei uccide Negan ma per ucciderlo muore anche lei Quindi secondo me è una domanda davvero interessante Nel senso è una cosa che comunque si potrebbe fare Nel senso secondo me potrebbe essere tranquillamente Carol a uccidere Negan Magari come ripeto sacrificando anche se stessa Perché comunque insomma una volta uccisi Glenn e Abram Secondo me sarebbe diciamo la scintilla che appunto farebbe scattare a Carol E poi sarebbe una cosa stupenda far morire un personaggio come Carol perché è un personaggio che io adoro Nel senso è il mio preferito Uccidendo Negan Ma come sappiamo insomma spoiler tra virgolette del fumetto Negan ha avuto una sorta di conversione diciamo in una quella che è la gabbia appunto Perché comunque è stato rinchiuso Negan in una gabbia da Morgan Cioè più che altro da Rick perché Morgan aveva costruito quella cella Quindi insomma Negan è cambiato parzialmente Quindi scopriremo come Negan diciamo come posso dire Si cambierà oppure si convertirà appunto da quella che era il villain A un personaggio tranquillamente alleato al gruppo di Rick Quindi adesso bisogna vedere come lo impostano Però se fosse un finale del genere per il personaggio di Negan mi piacerebbe davvero tantissimo Prossima domanda ce la fa Allora questa è una bella domanda Nel senso che comunque Negan in futuro come già avevo detto nella domanda precedente Possa essere rinchiuso all'interno della scena di Morgan Questo è abbastanza sicuro Poi possa cambiare e diventare un membro importante del gruppo Non ti saprei dire Nel senso che non credo che molti saranno d'accordo a farlo diventare un membro prezioso per il gruppo Nel senso che Negan insomma ha fracassato la testa di Glenn e Abram E non solo ha anche ucciso Spencer Ha anche ucciso Olivia Ha praticamente rovinato la vita del gruppo di Rick Per donarlo però ha fatto una cosa del genere Secondo me insomma ce ne vuole tanto Quindi scopriremo come magari Rick potrà farlo alleare tranquillamente al suo gruppo Magari per sconfiggere un nemico ancora più grande di quelli che sono i Salvatori Quindi secondo me potrebbe diciamo essere una cosa interessante dal punto di vista della storyline Nel senso che ce lo vedrei tantissimo Negan magari rinchiuso nella cella Perché comunque sappiamo che tutti i Villain diciamo alla fine hanno fatto una brutta fine Come abbiamo visto Garrett, abbiamo visto il Governatore, abbiamo visto tantissimi altri Villain morire così Secondo me Negan potrebbe essere l'eccezione che può insomma confermare la regola Quindi secondo me insomma potrebbe essere tranquillamente che possa essere l'eccezione diciamo Che possa garantire quella che è una deviazione della storyline classica dei Villain Perché comunque la storyline classica dei Villain introduce il Villain, combatte e muore Nel senso questa ormai è la cosa, nel senso i Villain sono sempre morti Ma potrebbe essere tranquillamente che Negan verrà trattato in un altro modo Prossima domanda ce la fa Derek99 question and answer Pensi che sia possibile in futuro che il gruppo di Rick vada fuori dall'America Magari con una nave per vedere com'è la situazione nel resto del mondo Questo commento ha preso 9 mi piace quindi mi è piaciuto davvero tantissimo anche a me Devo dire che la cosa è probabile però diciamo che la devono trattare un po' con le pinze Perché comunque insomma trovare la possibilità di girare un set anche fuori dall'America Nel senso che comunque devono prendere in considerazione che comunque diciamo La gestione del set è differente nel senso che devono comunque chiudere le strade Per non far circolare nessuno quindi è un impegno Già comunque il fatto che loro si trovino in Georgia a fare tutto ciò fuori dall'America E nel resto del mondo ci potrebbe essere un problema anche nei costi del cast Oppure semplicemente anche nella gestione diciamo del cast Però sarebbe un'idea davvero interessante nel senso Rick fuori dall'America Vedere anche in altre parti del mondo la situazione di com'è messa Però credo che adesso l'obiettivo di quello che è The Walking Dead È quello di stare sempre lì perché comunque c'è Alexandria Non credo ci sia bisogno diciamo di andare a esplorare altre parti del mondo Perché sappiamo che benissimo che Rick ha detto che praticamente quasi tutta la popolazione è morta Quindi il senso secondo me di andare a trovare e a vedere altri posti del mondo Non ha tanto senso perché comunque insomma sarebbe una cosa secondo me un po' inutile Perché comunque dovrebbero dedicare diciamo gran parte dei episodi a questo Quindi secondo me insomma non ce la vedrei come cosa Però se dovessi io essere cioè se fossi stato io il regista io avrei fatto una cosa del genere Nel senso avrei anche allargato quello che è il mondo di The Walking Dead Però ovviamente non credo che dal punto di vista di questa serie insomma possa essere possibile Poi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Prossima domanda ce la fa Jarmstow Ok Jarmstow che ci crede E questo è un anzio lasciando perdere il filo della storia Secondo te il più cattivo è il governatore Onnigan Bella Fox ti stimo Grazie mille per il complimento E guarda ti dirò Il governatore Onnigan Allora partiamo dal presupposto che il governatore è stato un villain davvero eccezionale Mi è piaciuto dall'inizio alla fine anche il suo sorta di cambiamento Dopo la strage di Woodbury della quarta stagione Mi è piaciuto davvero tanto Mi è piaciuto davvero tanto il suo cambiamento Ed era molto cattivo come personaggio Perché comunque aveva praticamente Gli piaceva combattere Non a differenza magari di Rick Che a lui non piace combattere Non piace uccidere A differenza del governatore che a lui piaceva Ma Nigan sembra essere lo stesso del governatore Ma anche peggio Nel senso che adesso comunque la backstory del governatore L'abbiamo mezza vista Nel senso che c'è stata più un'analisi da parte del Diciamo del suo personaggio Perché comunque gli hanno dedicato due stagioni Grossomodo a quello che è il governatore Quindi secondo me Nigan prima di dare un giudizio azzardato su Nigan Io vedrei la sua backstory Perché molto probabilmente verrà approfondita E spero che verrà approfondita Perché così si può capire Chi è il più cattivo del governatore o Nigan Ma devo dire che comunque credo che sia Nigan Perché comunque il governatore Si era cattivo Ma Nigan in questo caso Secondo me anche peggio Secondo me Adesso bisogna vedere Perché comunque nel fumetto Credo ha fatto ancora peggio Di quanto abbiamo visto Praticamente nella serie tv Quindi bisogna vedere Ben o male adesso Dopo tutto quanto Dopo la fine del suo personaggio Di Nigan Chi ha fatto più azioni cattive Chi l'ha reso il più cattivo E quindi insomma Giudicare adesso Insomma è un po' Una cosa azzardata Ecco secondo il mio punto di vista Ma secondo me Facendo una cosa così Secondo me Nigan È il più cattivo fra i due Comunque Questa era bella domanda Comunque fatemi sapere Voi nei commenti La vostra opinione Perché voglio vedere In quanti sono schierati Dalla parte del governatore Nel senso quanti Hanno apprezzato più il governatore A livello di Diciamo di Villain E Nigan Quindi mi piacerebbe Sapere la vostra opinione Prossima domanda Ce la fa Sam Cere 1923 Che ci chiede questo Non è brutto il fatto Che il fumetto Esca prima degli episodi E così facendo una Andando a leggere Sa quasi sempre Cosa succederà La stessa cosa nella serie Per il resto Complimenti per i tuoi video Sono sempre il top Grazie mille per il complimento Allora Il fatto che comunque Il fumetto sia Cioè Esca non prima appunto Esca prima il fumetto Che Gli episodi È una cosa del tutto normale Perché comunque Il fumetto è nato prima Rispetto alla serie tv Quindi è stata ispirata Ovviamente La serie tv al fumetto E sono ovviamente Pi' avanti Non è che potevano Bilanciare le cose Ma comunque La storyline Grosso modo Venne sempre cambiata Sono gli avvenimenti Cioè la storyline Comunque È grosso modo quella Possiamo dire Ma qualche cambiamento Ci sta Però Comunque Gli avvenimenti Sono sempre diversi Quindi Spero magari Ovviamente Di vedere un qualcosa Di diverso Anche sul volume Di Negan Perché comunque Il volume Della guerra con Negan È davvero Un volume interessante Io non l'ho letto Non so niente Del fumetto Ma dicono Che è davvero bello E bisogna vedere Nella serie tv Se magari qualche avvenimento Può cambiare Oppure no Esempio Un avvenimento Che è cambiato È il fatto che Carol è viva Rispetto a Ovviamente Al fatto che Nel fumetto È morta Sofia Sofia Nel fumetto È viva Nella serie tv È morta Quindi sono tante Le cose Che sono cambiate All'interno Della serie tv La storyline È la stessa Nel senso Il governatore Ci stava Il viaggio Verso Aleksandre Ci stava La guerra Contro Negan Ci stava Quindi comunque Insomma Grosso modo La storyline È quella Ma alcuni personaggi Alcuni avvenimenti Sono cambiati E l'hanno resa Un po' Diversa Da quella che è Il fumetto Ma grosso modo Ci siamo sempre Ma io Credo che ci sta Una cosa del genere Nel senso Il fumetto Deve uscire Prima Perché è nato Prima E non è che può Allinearsi Alla serie tv Ovviamente Dovrebbe in qualche Modo rallentare Il fumetto Cioè non dovrebbe Uscire per un po' Per farla allineare Alla serie tv Quindi secondo me Insomma È una cosa Impossibile Credo che sia Molto Probabile Che rimanga così La situazione Nel senso A me sta benissimo Perché comunque Il fumetto Non lo leggo E mi godo La serie tv Tranquillamente Prossima domanda Ce la fa Lorenzo Giustetto Questo è un'answer Cioè Fox Pensi che Dwight Possa morire eroricamente Durante la guerra Contro Negan Magari salvando La vita a Daryl Avendo una sorta Di redenzione Da quello che ha fatto Nella passata stagione Se è un grande Vai avanti così Grazie mille Lorenzo Per il complimento Questa è una domanda Bella A me è piaciuta tantissimo Infatti l'ho aggiunta Subito appena l'ho vista Perché dico questo Perché comunque Dwight è un personaggio Che abbiamo scoperto La sua backstory Abbiamo avuto più Un'analisi approfondita Del suo personaggio Senza l'episodio 11 Che appunto Ha introdotto Il personaggio di Dwight In maniera più approfondita Non avremmo scoperto Che Dwight Ha un lato Molto 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 Diciamo Debole al suo interno Cioè un lato veramente Da brava persona Nel senso che comunque Dwight è un buon personaggio Un personaggio Che a me piace Ma se non ci fosse stata Quella puntata Praticamente Noi avremmo considerato Dwight Un pezzo di merda Come sempre Quindi secondo me Questa stagione È servita davvero tanto E servirà tanto Perché comunque Insomma Il fatto che Dwight In questo modo Possa morire eroicamente Avremmo capito Il senso della sua morte Magari nei confronti Di Daryl Avendo visto Gli episodi Della stagione 7 Quindi secondo me Come ripeto sempre Questa stagione è servita Dwight In questo modo Potrebbe tranquillamente Morire eroicamente Sono assolutamente D'accordo su questo Durante la guerra contro Negan E potrebbe salvare la vita Daryl Assolutamente d'accordo A me piacerebbe tantissimo Una cosa del genere Mi dispiacerebbe Per il personaggio di Dwight Ma per quanto riguarda Diciamo la scena Dal punto di vista Della scena A me piacerebbe Tanto vedere Una cosa del genere Cioè mi farebbe Tranquillamente effetto Non ci crederei Ecco a vederla Una cosa del genere Sinceramente Insomma Mi piace come personaggio Dwight Secondo me Una fine del genere Può caratterizzare Il suo personaggio Davvero in modo In modo fantastico Secondo me Insomma una cosa del genere Può assolutamente succedere Prossima domanda Ce la fa Vinci Guards Question Answer Farei delle top In estate Magari delle morti Antagonisti Eccetera Allora questa è una bella domanda Perché comunque per chi Per chi diciamo Segue il mio canale Da tanto tempo Sa benissimo Che io porto Porto Portavo Più che altro Delle top 3 O delle top 5 A seconda delle cose Ma generalmente portavo top 3 Di quelle che sono magari I migliori personaggi Le migliori stagioni Le migliori Migliori villa E nelle migliori morti Le morti più tristi Tantissime cose fighe Di quanto riguarda appunto Le top 3 Ho smesso di farle Perché comunque Diciamo Ho pensato Di gestire il canale In maniera diversa Nel senso Approfondire di più Quelli che sono gli episodi Le promo Comunque A fare i Q&A Perché comunque Interagiscono meglio con voi E comunque Tutte queste cose qui Che facevo Analisi dei personaggi Tantissime altre serie Che magari molti non conoscono Le continuerò assolutamente Magari in estate Avendo la pausa appunto Di The Walking Dead Vi terrò appunto Un po' aggiornati O comunque Vi intratterrò Un po' Con quelle che sono Le top 3 Magari quelle che sono L'analisi dei personaggi Tante altre serie Che prima c'erano nel canale Ma le ho fermate Per dare spazio ad altre Assolutamente State tranquilli Porterò tantissime cose Quindi mi raccomando Sintonizzati sul canale Prossima e ultima domanda Siamo già arrivati All'ultima domanda Sì Ultima domanda Ce la fa Christian Cerda Che ci chiede questo Nel answer Cosa pensi delle persone Che criticano The Walking Dead Per motivi assurdi Allora questa è una domanda interessante Infatti l'ho messa proprio Come ultima Per chiacchierare un po' Di questa cosa qua Nel senso The Walking Dead È una serie tv Che comunque è criticabilissima Nel senso Io non ce l'ho con le persone Che lo criticano Perché comunque La critica è alla base di tutto Se non c'è la critica Tutti la penseremmo ugualmente Quindi il fatto Che la gente critica The Walking Dead Ci sta gente Che lo critica In modo razionale Nel senso Dice effettivamente Una critica sensata E certi La maggior parte Che criticano The Walking Dead Per motivi assurdi Nel senso Un episodio Non è stato noioso Per loro è stato noioso Perché ovviamente Devono avere Guerra Azione Spari Spari Morti Zombie Morti Eccetera eccetera Quello Devono avere I fan Diciamo Una parte Diciamo Dei fan Però comunque Le persone che criticano The Walking Dead Magari per il cervo Nel senso che È stato L'episodio Mi pare 12 Sì l'episodio 12 Che ha introdotto Il cervo In CGI E fatto malissimo Io sono d'accordo Che è stato fatto malissimo Ma ci hanno campato Tantissimo Cioè L'hanno sotterrato The Walking Dead Per aver fatto un errore In 6 stagioni Nel senso che Per quanto In 7 Vabbè In generale Dico In stagioni The Walking Dead Cioè per quanto La serie possa essere Bella o brutta A seconda dei gusti Il fatto degli effetti Speciali di The Walking Dead Non gli è stato mai detto nulla Hanno introdotto una tigre Che quello Ha fatto Ha praticamente ucciso Il budget del CGI Perché comunque C'è sempre un budget Per ogni cosa C'è il budget Per gli attori Il budget per le scene Il budget per il CGI Cioè la computer grafica Per chi non sapesse Cos'è il CGI E quindi Credo che Il cervo Sia stata Una spinta Che hanno voluto fare Nel senso Hanno messo Meno soldi Per realizzare Una cosa del genere Piuttosto che Mettere più soldi Per realizzare una tigre Che ovviamente Deve fare effetto Deve fare scena Perché comunque Fa parte Di quella che è La storyline Di The Walking Dead 7 In questo caso La stagione 7 Il cervo Non lo rivedremo mai più È stato semplicemente Una cosa Che può Aver dato fastidio Ma secondo me La gente sta criticando The Walking Dead Per cose assurde Nel senso Si è attaccato A cose assurde Più per criticarlo Cioè nel senso Perché comunque Criticarlo Credo mai Sta andando di moda Perché magari Questa stagione È noiosa È lenta Dicono che così E quelli là Quindi ne approfittano Per trovare motivi assurdi Per criticarla Ovviamente ci sta gente Che assolutamente Apprezzo tantissimo Perché le critica Con razionalità Infatti Criticano veramente Tanto Nel senso Della storia Magari delle cose Di avvenimenti E cose così Ci può stare Ma motivi assurdi Semplicemente Io non sono assolutamente D'accordo E penso sia soltanto Una moda Ormai criticare The Walking Dead Proprio perché Questa stagione Sta andando Per questo verso Nel senso Una stagione Introduttiva È stata una stagione Introduttiva Per quanto riguarda L'ottava Secondo me Non ci troveranno Nulla Di sbagliato Perché sarà Una stagione Che spaccherà Veramente tantissimo Proprio per la guerra Perché comunque Insomma La guerra contro Nigan È alle porte E quindi L'ottava stagione Avrà Secondo me Un impatto Davvero Grande Nei fan Che non potranno Dire assolutamente Nulla Speriamo bene Per un'ottava stagione Veramente Bella Diciamo Quindi nulla Ragazzi Spero tranquillamente Che questo Questo non è finito Le vostre domande Finiscono qua Ovviamente Se avete Qualsiasi altra Domanda da farmi La potete fare Tranquillamente Qui giù nei commenti E che dire Spero questo video Vi sia piaciuto In tra il caso Vi ricordo Di lasciare un mi piace Mi raccomando Ragazzi Lasciatelo Perché ci tengo Veramente moltissimo E vi ringrazio Per il nome supporto Inoltre Iscrivetevi al canale Se non lo avete ancora fatto Se non volete Perdervi i prossimi Contenuti Di The Walking Dead Passate anche Nella pagina Facebook E nel profilo Instagram Tutti i link Li trovate nella descrizione Noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto da Foxhound The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ma io ti ucciderò